L'aeroporto Ginolisa di Foggia sta assumendo un ruolo di presidio sempre più importante nella lotta contro gli incendi. Lo ha confermato il responsabile della protezione civile pugliese Nicola Lopane in un convegno sul tema allestito ieri sera a Motta Montecorvino, dove peraltro proprio un ruogo ha accolto la delegazione regionale. L'incontro è stato promosso dalla senatrice Gisella Naturale, che ha voluto mettere intorno a un tavolo varie professionalità pubbliche e private del settore. Nell'occasione Lopane ha annunciato la imminente apertura in viale degli aviatori di un plot, cioè un presidio logistico operativo territoriale dotato di mezzi a terra ma senza una aerea a supporto, sebbene abbia auspicato la sua presenza in pianta stabile. Il centro svolgerà la funzione di riferimento dell'area Nord Puglia, a supporto primario del territorio del Gargano e le isole Tremiti, e dell'Adriatico in generale, perché in funzione di possibili interventi internazionali, specie in Albania. Quale sia la situazione attuale l'ha spiegata il direttore della sala operativa regionale, Lucio Pirone. La campagna B è partita dal 15 giugno e ad oggi possiamo registrare circa mille incendi. È leggermente al di sotto di una media storica di quelle annate in cui gli incendi sono terribili. Abbiamo una situazione di questo tipo perché, oltre all'estremo caldo, probabilmente le condizioni innescanti agli incendi non sono tali da poter avere un livello di pericolosità elevato. Di questi mille incendi però bisogna anche vedere la parte relativa agli incendi boschivi. Sono al momento solo il 10% sono colpiti i boschi e su quel 10% noi inviamo tutte le squadre AIB che abbiamo all'interno del sistema regionale. Di questi mille incendi purtroppo, molto probabilmente, la statistica che riportiamo sul piano AIB è che il 75-70% sono volontari, ma il restante sono purtroppo dovuti a natura colposa, per negligenza o per attività scorrette che molte persone, soprattutto in questo periodo, mettono sul territorio.